Il ricorrente cittadino del Mali potendo egli subire, nel caso di rimpatrio nel proprio paese di origine e in quello di provenienza, per la sua sola presenza sul territorio un danno grave a causa dell'attuale situazione che imperversa nel Mali e che si caratterizza per violenze generalizzate e massicce violazioni dei diritti umani.